L'hotel Ristorante Selene, Casa De Locos, vi dà il benvenuto nella propria struttura, a soli 7 chilometri da Ascoli Piceno. L'hotel dispone di 14 camere, singole, doppie, triple e quadruple. Per rispondere ad ogni tipo di esigenza è richiesta della clientela, arredate con gusto e in modo funzionale. Sono provviste di ogni comfort, servizi privati, tv color e telefono. A disposizione degli ospiti un fornito bar, dove consumare un'ottima colazione o rilassarsi bevendo un drink. E' anche un ristorante in cui gustare piatti della tradizione italiana e locale o optare per un menù completo con acqua, vino e caffè inclusi a soli 10 euro. Tutti i venerdì invece, la cucina propone pesce fresco a 15 euro. L'hotel-ristorante Selene vi aspetta. Per rispondere ad ogni tipo di esigenza che per rispondere ad ogni tipo di esigenza, Grazie.